E ora è il momento della rubrica dedicata all'approfondimento dell'attualità sindacale. Come già anticipato e ampiamente previsto, con il rientro dalle ferie estive, i nodi dei mille problemi del Paese stanno venendo tutti al pettine, in un quadro di proteste e mobilitazioni annunciate per nulla rassicurante. La recessione è ben lungi dall'essere alle nostre spalle, nonostante alcuni timidi tentativi per convincerci che il 2013 ci porterà fuori dal tunnel. Ma quali sono le emergenze secondo la CGL? Ne parliamo con Patrizia Maestri, segretaria generale provinciale. Lo scorso 11 settembre l'incontro del Presidente Monti con i sindacati sullo sviluppo e la competitività. Quali sono le posizioni? Si è trattato di un confronto che non ha dato quelle sue risposte che la CGL, almeno pensava di ottenere. Siamo ancora molto lontani dall'essere fuori da quel tunnel famoso di condizioni ancora molto recessive e quello che vuol fare questo governo, quello che vuol fare Monti, quindi praticamente far ripartire il Paese e lo sviluppo, senza però risorse, non può dare risultati che si sperano. Noi crediamo che occorrano risorse, bisogna prenderle da una tassa sui grandi patrimoni, dell'evasione fiscale, occorre ridare fiato agli stipendi e alle pensioni, quindi detassare le tredicesime, una vera e propria riforma fiscale, insomma invertire quei provvedimenti che non hanno minimamente avuto quel senso di equità e di giustizia sociale che il governo si era impegnato a fare. La CGL ha un progetto al piano per il lavoro, quindi dove si parla di come ripartire partendo, creando appunto lavoro e da lì noi partiremo con delle iniziative, dallo sciopero del pubblico impiego, sciopero della scuola, manifestazione che riguarderà tutta la CGL per arrivare anche allo sciopero generale. Tutto questo come si riverbera a livello locale? È una grandissima preoccupazione per quanto riguarda anche il nostro territorio, dove la disoccupazione comunque permane, il lavoro precario per i giovani continua e siamo anche di fronte a un problema di mancanza di risorse ancora molto forte di tutti quanti i comuni, a partire dal comune di Parma, insomma, in cui dopo questi primi 100 giorni non vediamo questa giunta, che pur ha redetato un debito pesante, non vediamo affrontare i grandi temi. Noi siamo preoccupati sostanzialmente per quello che succederà per quanto riguarda bollette, tariffe, l'IMU nel comune di Parma che è la più alta in tutta la regione, quindi un costo molto forte, siamo preoccupati per i sociali, non sappiamo ancora quanto si spenderà nel bilancio preventivo, siamo preoccupati per quello che succederà a dire, nel senso che come sindacato naturalmente aspettiamo l'esito della magistratura, ma nello stesso tempo ci sono alcune cose che vogliamo comunque affrontare, insomma, cosa sarà per quanto riguarda, cosa succederà per quanto riguarda appunto il lavoro, sono 600 lavoratori, che tipo di strategia si vuole utilizzare nel territorio per la multi utility, è un progetto ancora confuso e molto impregnato di campagna elettorale. Noi crediamo che al di là dell'inceneritore bisogna proprio parlare di quello che serve ai cittadini che devono pagare meno tariffe ed avere comunque un progetto appunto sulle multi utility, quindi gas, acqua e rifiuti, come tutti gli altri territori in sostanza. Quindi noi partiremo nelle prossime settimane con dei confronti, con i sindaci, a partire dal sindaco di Parma naturalmente, per affrontare, dicevo, questi temi che sono importantissimi per la vita delle persone.